Eccoci qua cari tifosi viola, eccoci qua, allora non è e non sarà sicuramente facile riprendersi dalla batosta di lunedì sera al Franchi del 4-0 contro la Lazio, ma bisogna andare avanti, bisogna andare avanti, la Fiorentina ha un'occasione di andare avanti proprio domani sera al Franchi, nella sua casa, in una competizione che deve comunque onorare, che è la Conference League e affronterà di nuovo gli Hearts. Il calendario del Girone è strutturato in maniera speculare, quindi l'avversario della terza partita verrà affrontato nella quarta e quindi poi proseguiremo con il Basak Seri in casa, partita anche quella che sarà fondamentale per vedere se uno riusciremo a passare il Girone e due, se magari con quello scontro diretto e con qualche risultato a favore potremo passarlo primi. Mi raccomando prima di iniziare il video ragazzi però like, commento e condivisione del video, iscrivetevi anche al canale, mi raccomando condividete l'iscrizione al canale con i vostri amici, spargete anche la voce, non mi fa di certo dispiacere. Mi raccomando nel box della descrizione il link da premere per tutti i social di Space Viola per vedere questo progetto dove è attivo che è molto molto interessante. E niente ragazzi, partiamo con la presentazione della partita di domani. Allora io ho scritto svegliatevi tutti nel titolo e anche in copertina come avrete sicuramente visto, perché c'è da svegliarsi oggettivamente, perché la Fiorentina non può permettersi più di perdere punti sotto nessun fronte, tanto meno poi in campionato ma anche in conference, perché vincere domani contro gli arts significherebbe praticamente ipotecare il passaggio del girone, ma questo non ci basta naturalmente, almeno non avrebbe dovuto bastarci. Cosa che invece mi sa della quale però bisognerà un po' accontentarci, ma ci ho detto, c'è una possibilità ancora di passarlo per primi, non sto a fare calcoli matematici eccetera eccetera, perché il problema della Fiorentina adesso non è tanto il passaggio di conference primi o secondi, ma è uscire da questo momentaccio veramente veramente tanto buio che ci sta un po' portando l'entusiasmo a terra. La Fiorentina, partiamo dai dati, è uno dei peggiori attacchi della Serie A, è il secondo peggior attacco della Serie A, solo dopo porre della Sampdoria se non sbaglio, e bisogna per forza porre rimedio. Quindi a questo gli infortuni in attacco possono essere una scusante, perché giocatori come Sottil, giocatori come Monique Gonzales in forma, giocatori come uno Jovic magari in forma possono essere un po' più determinati e possono risolvere sicuramente questo problema, però non bisogna aggrapparci sicuramente solo a quello. C'è chi punta al dito contro l'allenatore, c'è chi punta al dito contro il modulo, c'è chi punta al dito contro il giocatore e chi contro la società. Per me, come al solito, è tutto un purpurri, nel senso che è un po' un calderone dove insieme vengono messi tutti questi elementi, dove nessuno sicuramente è esente da colpe, sono abbastanza tutti colpevoli, devo dire, però devo dire che io la colpa più grande in percentuale per adesso la darei alla società e per non aver rispettato, diciamo, un mercato che andava fatto in maniera più, diciamo, convincente, anche perché io ho dato 6+, se non sbaglio, il mercato quindi è una sofficienza abbastanza risicata, ma più che altro molti puntano il dito contro l'italiano. Beh, lo si può anche fare perché non è inattaccabile l'italiano, oppure io che ne sono nero, ne sono tuttora, dai, un sostenitore, non sono un italiano convinto, un italianista convinto fino in fondo, ma comunque ne sono un sostenitore, ha un'idea ben precisa di gioco, lui che è il 4-3-3, molti continuano ad attaccare con questo 4-3-3, ah, basta, non si può più vedere. Ragazzi, Conte c'ha il 3-5-2, Gasperini c'ha il 3-4-2-1, Ragneri c'ha il 4-4-2, Ancelotti aveva l'albero di Natale, Zaccheroni c'ha il 3-4-3, ad esempio, sono tutti moduli e idee di gioco e identità che hanno fatto grandi certi allenatori, Zemano aveva il 4-3-3, nel suo piccolo era un grande, insomma, Zemano, no? Quindi ogni allenatore trova la sua filosofia di gioco e trova tutti i modi possibili, per portarla avanti, comunque. Quindi, naturalmente, sì, può essere un po' cociuta l'allenatore a volte a non adottare, ma non un modulo diverso, perché il modulo e i giocatori per farlo quasi ce l'abbiamo, vi direi, no? Ma, in teoria, bisogna adattare un po' più le dina, bisogna leggere un po' meglio la partita. Italiano difetta soprattutto in quello, più che dal punto di vista del modulo, perché lui è nato col 4-3-3 e probabilmente morirà col 4-3-3. Lui è un po' un estremista da questo punto di vista, no? Quindi, accettata questa cosa, la Fiorentina avrebbe dovuto fare un calcio mercato, secondo me, più ad hoc per questo 4-3-3. Ma ciò detto, parliamo della partita di domani. Affrontiamo gli Arts che hanno pareggiato 2-2 contro il Kilmarnock al novantesimo, con un euro-goal. Quindi gli Arts che si confermano una squadra che lotta ancora per la medio-bassa classifica in Scozia. Fiorentina che, non dico sia nella stessa situazione a livello di campionato, ma se si parametrano, insomma, le due leghe ne esce vincente la Serie A da questo scontro. E quindi diciamo che la Fiorentina sulla carta ha un vantaggio dal punto di vista della Rosa. Siamo in casa, anche se è vero che verranno 3.000 addirittura, se non sbaglio, degli Arts al Franchi, quindi saranno veramente tanti e la spinta del pubblico si sentirà, si sentirà anche la nostra, spero naturalmente, e domani sarà lo stadio a fare anche magari un vlog, se tutto va secondo i piani. Però una Fiorentina, come dicevo, che deve affrontare la partita dal punto di vista tattico come l'ha affrontata ad Edimburgo, cioè un primo tempo bello arrembante, andare sul 2-0, 3-0 già nel primo tempo sarebbe veramente molto molto bello, anche perché gli Arts, se vogliono passare il girone, devono vincerla questa partita, quindi un minimo sicuramente si scopriranno, non sarà una partita totalmente da schiacciati per loro, secondo me, anche se giocano il 3-4-3 o a volte cambiano anche il modulo, quello per loro non è, diciamo, il principale problema, il loro calcio è un po' più calcio di strada per intenderci, cioè proprio pedate, palla lunga e via, no? E si salvi chi può. Per quanto riguarda la Fiorentina, il modulo di gioco è il 4-3-3 e io domani penso che la Fiorentina andrà in campo e non credo di andarci tanto lontano con Gollini, che si conferma comunque portiere di Coppa e come centrale di difesa anche solo per dare un po' più di sicurezza a un reparto che ultimamente, sì, occhi all'attacco ma anche la difesa è proprio una Fiorentina in confusione completa, ma secondo me la difesa si può andare con Igor e Milenkovic, anche per far riprendere un po' di minuti al servo magari lo puoi togliere se la partita si mette bene o se viene ammonito per un quarto, ad esempio quindi Igor e Milenkovic. A destra credo che giocherà, sono abbastanza sicuro che credo che giocherà Venuti, a sinistra invece Terzic, credo che si farà un po' di turnover, ma non per perderla naturalmente, ma anche solo pensando al fatto che non so se domenica o lunedì dovremo andare a giocare a Lecce, quindi in trasferta, una partita delicatissima, aiutatemi a dire delicata per il prosieguo della carriera d'italiano, ma anche per, che mi può importare anche il giusto naturalmente, ma per riscattarsi da un campionato ancora non tanto buono della Fiorentina, quindi sarà una partita importante. Tornando al centrocampo, secondo me giocheremo con Barak, Amrabat che salterà la trasferta di Lecce, quindi secondo me a questa dovrà giocare titolare, e a destra credo che giocherà Malè, Duncan non credo, pare abbia litigato, Zurkowski, l'italiano non lo vede tantissimo, Bianco, boh, vediamo, potrebbe essere che lui giochi titolare, ma dubito, quindi credo che si vada accendendo, Buonaventura e Mandragora saranno stanchi, quindi tantomeno, Barak, Amrabat, Malè, in attacco, Saponara e Icone da una parte, secondo me giocheranno loro due, Nico non credo sia in grado di giocare una partita del genere, anche perché se deve entrare come è entrato negli ultimi periodi, tanto meno, credo che giocheranno a Saponara e Icone anche un po' per ricompensare Icone da questo piccolo momento di forma, tra virgolette, nel quale sembra un calciatore decente, davanti, per mia filosofia, per quello che ho sempre ripetuto in questo canale, fare giocare Iovic, però credo che domani possa giocare Cabral, credo che domani possa giocare Cabral, vediamo, vediamo comunque, anche se Iovic contro le arse ha funzionato molto bene perché attirava i giocatori fuori e faceva progredire ali e terzini nella scampagnata lungo le fasce, che dire ragazzi, domani un 1x, ma nemmeno uno fisso credo domani, spero di vi dare un 1 fisso domani, anche perché se il risultato fosse contrario, prepariamoci a vederne delle belle, ma anche se è un pareggio o una sconfitta, ah, e naturalmente, prima di dire sempre sempre Forza Viola, vietato a chi domani farà Caroselli dopo questa partita, perché uno, si è visto già come va a finire la gente e fa Caroselli dopo 3-0 contro gli Ars, e due, sì, godere di un'eventuale vittoria, assolutamente, perché comunque si gode sempre della Fiorentina e noi non siamo di trattori, ma siamo tifosi, rimaniamo concentrati, rimaniamo assolutamente concentrati e a questo punto ve lo prometto, sempre sempre Forza Viola, ciao ragazzi!